Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Vi do il benvenuto al primo appuntamento di giornata con l'informazione di TV in Molise. Quest'oggi vogliamo partire dal ricordo dell'anniversario dell'autonomia regionale attraverso le immagini storiche di TV in Molise con l'arrivo del presidente Leone a Isernia. Quindi 60 anni dall'istituzione della regione Molise. Un percorso fatto di speranze ma anche purtroppo di delusioni. Ce ne parla Antonio Leone. 1963, una data che ha segnato per sempre la storia del Molise. Era il 27 dicembre quando il Parlamento approvava la legge costituzionale istitutiva di una regione territorialmente e amministrativamente autonoma. La ventesima regione d'Italia, la prima creata dalla separazione di due realtà territoriali, l'Abruzzo e per l'appunto il Molise. Un traguardo che rendeva finalmente giustizia a quell'anelito antico delle genti molisane. Così parlava l'onorevole La Penna che insieme ad altri esponenti della classe politica di allora si sono battuti per l'istituzione della regione. Dietro di loro una società civile convinta che il progresso dipendesse da quell'autonomia che dagli a poco avrebbe portato uffici, servizi e benessere. Un lungo percorso preparatorio anticipato quel fatidico 27 dicembre. Una delle tappe fondamentali, l'arrivo qualche mese prima a Esernia, dell'allora presidente del Consiglio, Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica. Leone venne a Esernia per commemorare le vittime del bombardamento che distrusse la città nel 1943, ma a margine di quella commovente cerimonia poté toccare con mano le istanze provenienti da un intero popolo. C'era da fare una provincia a quella di Esernia, ma prima ancora una regione. Il presidente Leone fece ritorno a Roma con le idee chiare. Bisognava realizzare quello che all'indomani del secondo conflitto mondiale già avevano previsto i padri costituenti, l'autonomia di un territorio e di un popolo con una cultura millenaria. Ma l'istituzione della regione molise assume un significato storico di più ampia portata. Il 1963, denominato Annus Horribilis, l'omicidio Kennedy, il disastro del Wyant, dinanzi a un'Italia in lacrime la riscossa di una piccola realtà che con le sue forze dimostrava che ancora, nonostante tutto, si poteva sperare in un futuro migliore. Da allora quel sentimento di speranza è andato man mano affievolendosi. Oggi la regione molise deve fare conti con mille problemi, vecchi e nuovi, primo tra tutti lo spopolamento. Per questo motivo molti pensano che l'esperimento molise sia fallito. Meglio tornare indietro, meglio tornare con l'Abruzzo. Fa un certo effetto vedere le immagini di 60 anni fa, quelle due ali di folla che accolgono il presidente Leone, sono un'istantanea di un popolo che credeva in una rinascita e che oggi non c'è più. E allora tanti auguri molise, tanti auguri molisani, con la speranza che qualcuno, vedendo queste immagini, ricordi da dove siamo partiti e soprattutto dove non siamo arrivati. E partiamo ora con la nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono le notizie di oggi, 28 dicembre. Apriamo innanzitutto la pagina di TV in Molise, dove c'è la notizia del parco archeologico di Sepino Altilia, che dal prossimo 2 gennaio diventerà a pagamento, l'ingresso sarà a pagamento. Quindi per accedervi bisognerà pagare un biglietto, in questo modo si entrerà a far parte dei circuiti nazionali ed internazionali. E poi a Isernia, per Natale, i carabinieri in grande uniforme. Spostiamoci sul quotidiano del Molise, che apre sull'assessamento di bilancio, dimensionamento scolastico, quindi consiglio regionale urgente. Poi ancora l'area archeologica di Sepino, lo abbiamo detto, a pagamento, Rinaldi dice si riconosce il grande valore storico. Ancora i 60 anni di autonomia del Molise, Roberti dice lavorare tutti insieme per essere competitivi. Le altre notizie, Patriciello a Bruxelles con la Lega di Matteo Salvini, l'eurodeputato sembrerebbe quindi ad un passo dall'addio a Forza Italia. Andiamo su Molise Oggi News, elezioni 2024, tutti al voto appunto per le europee. E poi la nostra pagina Facebook, tra le altre notizie, cavalli investiti sulla statale 652 molisana, una cittadina molisana rischia la denuncia, però messa a custodia di animali. Si tratta della titolare di un allevamento, da cui sarebbero appunto fuggiti i tre cavalli, travolti e uccisi lungo la Fondo Valle Sangro, a confine con il Molise nella notte tra il 25 e 26 dicembre. La donna, secondo quanto si apprende dal quotidiano abruzzese, il centro è residente in Alto Molise e nelle scorse ore sarebbe appunto stata rintracciata dai carabinieri. E poi Molise 60, speranze e delusioni, l'anniversario dell'autonomia regionale, l'abbiamo visto attraverso le immagini storiche di TV Molise. Andiamo su Molise Network, tra le altre notizie c'è il calcio, Serie D, il Campobasso a lavoro in vista della prossima trasferta a Monterodonto il 7 gennaio, e poi a Longano la notte del 31 dicembre in cui si rinnova il rito del Rufuquaglione, e poi l'unimo il professor Raffaele Coppola, neoaccademico dei Giorgofili, e infine a Scapoli tutto pronto per la nuova edizione del Presepe Vivente. Te lasciamo ora i quotidiani online, spostiamoci sui cartacei, apriamo un nuovo Molise, così l'Otito ha comprato Forza Italia e Molise, nel 2023 ha versato 18.100 euro, una caparra più che sufficiente per garantirsi il comando in terra molisana, l'unico esponente azzurro che contribuisce a finanziare il partito. E poi la Fondazione Marsinelle, l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio regionale per i minatori morti, l'istituzione in Abruzzo. E poi questa notizia che ci riguarda da vicino, più Molise in Abruzzo, grazie a TVI e la QTV, il salto di qualità dell'emittente molisana. Notizia che approfondiremo tra un istante, dopo aver letto le altre notizie in prima pagina, tanti auguri a noi, ma è qui la festa, brinda pure il leghista Calderoli, la ricorrenza dei 60 anni della regione. E poi itinerari religiosi, in cammino da Petrella a Campobasso, San Bortolomeo incontra San Giorgio. Come vi dicevo, voglio leggervi questa notizia, di più Molise in Abruzzo, grazie a TVI e appunto alla QTV, un'intesa storica, che consente la copertura di un bacino di quasi 2 milioni di telespettatori sul canale 12. Quindi parliamo del salto di qualità dell'emittente molisana, diretta appunto dal nostro direttore Enzo Di Gaetano. Nelle foto li vedete, Enzo Di Gaetano, Luga Bergamotto, del gruppo imprenditoriale che controlla la QTV, la direttrice dell'emittente abruzzese Paola Sarra e Claudio Iannicelli, amministratore della Multimed proprietaria di TVI Molise. Parlavamo appunto di questo salto di qualità di TVI Molise, che si vedrà anche in Abruzzo sul canale 12, grazie all'importante accordo raggiunto con la TV abruzzese, televisione leader in quella regione. intesa rilevante per la qualità, perché la QTV è da sempre la televisione leader in Abruzzo, per l'autorevolezza e la credibilità raggiunta in tanti anni di attività. E' intesa importante per la quantità, perché TVI Molise, da un bacino di ascolto limitato alla sola provincia di Sernia, passa invece ad una copertura che con il canale 12 le darà visibilità su entrambe le regioni, quindi Abruzzo e Molise. Un bacino di quasi 2 milioni di potenziali telespettatori, quindi un balzo in avanti per l'emittente molisana, che ha riempito di soddisfazione ed orgoglio la squadra di TVI Molise, capeggiata dallo storico direttore Enzo Di Gaetano. Giornalista esperto alla guida di un team tutto formato da giovani cronisti e tecnici dall'enorme potenziale, grazie anche ad una proprietà rappresentata dalla Multimed Comunicazioni, che ha fatto del rispetto delle regole editoriali di correttezza ed equilibrio informativo la propria cifra comportamentale. Insomma, TVI Molise viaggia col vento in poppa, pronta ad affrontare un 2024 pieno di impegni e nuove iniziative editoriali. L'intesa raggiunta con la QTV prevede i seguenti spazi informativi. Per TVI Molise sul canale 12, 7.30 rassegna stampa, 13.30 telegiornale del giorno, 19.30 e 23 telegiornale della sera. Martedì sera poi alle 21, Vox Populi, giovedì sera alle 22.10 live today, venerdì sera alle 21 sportivamente. Con spazi da programmare per dirette su avvenimenti speciali. Voglio ringraziare i colleghi e gli amici abruzzesi di la QTV perché ci hanno dato la possibilità di far sentire la nostra voce e far conoscere il nostro territorio ben oltre gli angusti confini in cui eravamo limitati a causa della nuova e restrittiva normativa sull'emittenza locale. Lo ha detto appunto il direttore Enzo Di Gaetano. E nell'occasione anche noi di Nuovo Molise scrive appunto il giornale auguriamo ai colleghi abruzzesi e molisani che la nuova intesa editoriale sia foriera di successo e soddisfazione per entrambe le emittenti su entrambi i territori di Abruzzo e Molise. Questo è quanto dichiara appunto il direttore Enzo Di Gaetano. Bene, passiamo ora invece su primo piano Molise che apre sulle europee Patriciello dunque verso la Lega decideremo insieme agli amici la scomparsa di Berlusconi con cui l'eurodeputato aveva un legame di amicizia personale e di reciproca stima quindi ha compromesso i rapporti con Forza Italia. L'indiscrezione esce su Repubblica dalla segreteria di Venafro però assicurano che è tutto ancora in itinere. E poi Altilia dal 2 gennaio si pagherà, lo abbiamo detto giustamente, un ticket d'ingresso parla il direttore Rinaldi oltre a riconoscere lo straordinario valore del sito il biglietto consentirà di contribuire al mantenimento dello stesso e al potenziamento dei servizi. Le altre notizie Venafro, dimensionamento scolastico il testa e non solo perde l'autonomia Campobasso invece 550 mila euro in tre anni dalle multe la metà migliorerà strade e segnaletica ancora al sessantesimo della ventesima regione sanità lo Stato si accoglie il debito Romano lancia la raccolta firme consegneremo la petizione a Mattarella quando verrà in Molise dentro la notizia Agnone capitale della cultura senza acqua di notte col diretti necessari interventi efficaci e rapidi Termoli invece Anziano non ricorda l'indirizzo di caso la polizia lo rintraccia e lo mette al sicuro Luminari e Allarino Magia di Luci altre edizioni di successo a Santo Stefano più di 20.000 presenze andiamo all'interno di primo piano scuola primo via libera al dimensionamento salta il Don Giulio Testa la dirigenza di Venafro cancellata insieme ad altre due una a Campobasso e una a Termoli e poi ancora per il sessantesimo Romano caustico nulla da festeggiare lancia la petizione sul debito della sanità il disavanzo se lo accolli Roma consegneremo le firme a Mattarella ancora Sepino da gennaio ticket per l'area archeologica andiamo sulla pagina 3 colpaccio di Salvini Patriciello candidato nella lista della Lega Repubblica ricostruisce Forse Italia vicina all'implosione Big in fuga l'entourage dell'eurodeputato decideremo comunque insieme agli amici rivelatore il post del 29 settembre dedicato al Cavaliere il nostro rapporto personale è stato l'elemento determinante per sentirmi a casa andiamo avanti ci spostiamo sulla pagina di Campobasso violazioni al codice della strada un tesoretto da mezzo milione di euro è quanto ha incassato il comune in tre anni la metà verrà destinata ad interventi di manutenzione e poi la lotta allo spaccio ancora un blitz dei carabinieri in pieno centro militari in azione tra via Palombo e Villaflora perquisite diverse persone per alcune i controlli sono proseguiti in caserma e poi ancora Mic Drop questa sera la finale del contest il concorso musicale riservato ai giovani spostiamoci ora a Isernia nuova vita per Palazzo Orlando sia al progetto da 2 milioni di euro grazie ai fondi del PNRR lo storico edificio sarà ristrutturato a fini didattici educativi sociali e culturali i lavori aggiudicati a novembre alla Giuliano Costruzioni 300 giorni per terminarli altra notizia il teatro canzone ispirato a Gaber Gaemon così come non l'aspetti questa sera all'auditorium con lo spettacolo una cosetta così andiamo ancora avanti siamo su Venafro Capodanno patto di ferro tra Proloco e commercianti sale l'attesa per l'evento clou del cartellone natalizio e festeggiamenti partiranno già dal mattino e poi la manutenzione di strade e piazze l'asfalto arriva anche alle frazioni interventi alle noci e ceppagna il comune affida i lavori ad una ditta cittadina per una spesa complessiva che sfiora i 55 mila euro ancora in edicola il libro delle mille battaglie contro l'inquinamento c'è il capitolo ambiente di Venafro tra cementifici e inceneritoria a cura delle mamme per la salute infine andiamo a Termoli Molise autonomo da 60 anni interviene Ferrazzano Termoli c'è e ci sarà per il futuro della nostra regione e poi la ciclovia adriatica rush finale sul grande appalto nominata alla commissione di gara che dovrà definire la procedura per il lotto da 24 milioni di euro ancora un presepe in ogni casa sono 268 le natività in concorso nella diocesi bene con questa notizia chiudiamo le notizie regionali i quotidiani regionali passiamo invece su quelli nazionali apriamo il Corriere della Sera che apre su Giorgetti che accusa ed è scontro il ministro alla Camera mai detto che avremmo ratificato il MES le opposizioni invece dicono si dimetta debito basta allucinazioni intanto Meloni malata salta dunque ancora l'incontro con i media e poi di spalla l'addio a Delorsi visionario che costruì l'Europa Unita si è spento a 89 anni l'Europa che abbiamo non sarebbe mai esistita appunto senza il talento insieme umile scaltro e audace di questo francese scrive appunto il Corriere della Sera profondamente socialista e cristiano Jacques Delors è morto ieri a 98 anni sua anche l'intuizione più rivoluzionaria parliamo dell'euro a centro pagina dentro il super tunnel di Gaza qui sotto le forze del male nuovi raid nella striscia Erdogan contro Netanyahu sei come Hitler e poi quest'altro incidente avvenuto in una galleria quattro morti nell'ambulanza in fiamme siamo ad Urbino scontro con un pullman e rogo in galleria le vittime tre sanitari e un paziente dal Corriere ci sposiamo sulla Repubblica ancora l'addio a Delorsi l'uomo che seppe riconciliare l'Europa era nato nel 1925 a centro pagina invece il super bonus e la rabbia di Forza Italia Giorgetti attacca alla Camera gli incentivi edilizi peggio dell'LSD un'allucinazione con effetti radioattivi sul debito e annuncia un limite nel Consiglio dei Ministri di oggi alla richiesta di proroga il partito di Tagliani esplode ci trattano come cavie poi la politica che impoverisce Conte da un milione di redditi nel 2019 a 24 mila euro di spalla Egitto mediatore per la tregua la tela di Al-Sisi su Gaza e poi la storia umiliato nella Seul proibizionista si suicida la star del film Parasaita andiamo avanti siamo ora sul fatto quotidiano il titolo il patto è recessivo un caos totale infatti l'ha firmato lui Giorgetti confessa il ministro dell'economia sull'accordo siglato in Europa si è bociato da solo scrive il fatto quotidiano è un passo indietro su quello proposto dalla commissione un sistema ancora più complicato di clausole con Tagliani braccio di ferro sul 110% in alto Nordio verso Curcio tema il fronte dei procuratori il ministro contro il PM di Potenza e poi Cantone che dice darò ancora atti legge ingiustificata l'intervista quindi al procuratore di Perugia andiamo ora su il sole 24 ore ancora Giorgetti in evidenza nessuna manovra correttiva super bonus DL salva spese selettivo il ministro dell'economia i conti sono in linea con il nuovo patto di stabilità la verifica straordinaria metterà al sicuro lo scontro solo per alcuni lavori e poi a centropagina la denuncia miliardi di danni contenuti editoriali il New York Times fa causa a OpenA e a Microsoft e poi ancora IRPEF 2024 a tre aliquote atti sempre motivati tutoraggio più esteso e poi il mille proroghe dimezzate le tasse agli sportivi che vengono in Italia naturalmente anche sul sole 24 ore si parla del conflitto in Medio Oriente Erdogan dice Netanyahu come Hitler la replica genocida dei kurdi e poi l'Iran all'ONU nostro diritto rispondere all'uccisione del generale parliamo del generale assassinato in Siria siamo ora su il mattino super bonus c'è la sanatoria coperto il 2023 l'aiuto per i lavori non conclusi non andrà restituito stretta fiscale sulle big tech Giorgetti mai detto che l'Italia avrebbe ratificato il MES Meloni rinviata alla conferenza di fine anno e poi è conte leader politico con il reddito più basso i parlamentari le loro dichiarazioni e poi la ZES proroga di due mesi 500 milioni in campagna ok ai commissari fino a marzo la cronaca pronto soccorso 118 sguarniti il caso campagna stipendi bassi aggressioni disertati i concorsi bosco tre case due indagati per la neonata morta al centro pagina c'è invece il calcio con il Napoli salernitana derby per Mazzocchi della vuole chiudere a 2 milioni granata invece ne chiedono 4 bene andiamo avanti ci spostiamo ora invece sulla stampa di Torino Giorgetti allucinazione super bonus il ministro del tesoro superato il limite fondi sottratti alle pensioni scontro con Forza Italia pronto il nuovo fisco con solo tre aliquote IRPEF la Premier rinvia ancora la conferenza stampa di fine anno per motivi di salute di spalla la giustizia carceri sovraffollate ora numero chiuso e liste d'attesa contro la barbarie c'è poi anche un passaggio sulla guerra a Gaza un articolo di Lucia Annunziata che scrive il dominio di Gaza e Kiev sulle elezioni mondiali a centropagina questa fotonotizia la forza delle Ucraine le donne a lavoro con mariti in guerra e figli rapiti da Putin andiamo ora su avvenire ILVA l'ultima chance per l'ultima fabbrica l'ipotesi di un prestito ponte dello Stato slitta domani l'incontro con i sindacati oggi intanto il CDA serve a un accordo per l'aumento da 320 milioni ma il fabbisogno stimato è di un miliardo e poi i russi in fuga da Putin gli ucraini dal fronte i giovani scappano dalle mobilitazioni e poi ancora Meloni con il rinvio per la stampa e Giorgetti che invece rinega il messa anche oggi niente incontro di fine anno decreto per il super bonus il giornale finisce l'era del fisco spietato il governo vara nuove regole sulla riscossione ma i più cartelle in estate a Natale arriva il garante dei contribuenti Tajani dice un salvagente per chi perde il super bonus e poi ancora i conti in tasca ai parlamentari banche pesca inter e amazon ecco come investono i politici altro articolo sotto inchiesta alle ciclabili di sala molte sono improvvisate e insicure nel processo per la morte di una donna avvenuta appunto sulla sua bicicletta il manifesto che titola il crack tracolla il sistema carcerario l'anno si chiude con 10.000 detenuti oltre la capienza regolare la frenesia punitiva del governo prende di mira soprattutto giovani e ultimi cresce il consumo di crack la droga povera e le celle si riempiono di consumatori in alto licenziamenti ex GKN illegittimi il tribunale del lavoro di Firenze dà ragione alla FIOM Borgomeo di nuovo battuto lasciamo anche il manifesto ci spostiamo su Libero Giorgia non può ammalarsi processo all'influenza Meloni rinvia la conferenza stampa di fine anno e si apre il giallo che non c'è Conte Maligna non ci mette la faccia dall'antifascismo all'antiraffreddore poi è lì in fabbrica per vedere come sono fatti gli operai e ancora Giorgetti che mena sui grillini super bonus allucinante parla appunto il ministro dell'economia bene andiamo a concludere la nostra rassegna come sempre con le notizie della Gazzetta dello Sport Milan nuovi gol avanti tutta su Giurassi il bomber della Guinea è pronto a lasciare subito lo Stoccarda destro dribbling tacco segna in qualsiasi modo in alto a gennaio il campione costa meno facilitazioni fiscali per chi compra all'estero a giugno potrebbe non essere più così svolta quindi nel mercato decreto crescita verso la prologa e poi ancora Pjanic spinge la Juve l'intervista all'ex bianconero lotterà per lo scudetto fino all'ultimo minuto ancora Cala che respinge la rabbia domani Nerazzurri in casa del Genoa offerta da 18 milioni l'anno il turco vuole solo l'Inter bene la nostra rassegna termina qui vi ringrazio come sempre per averci seguito vi rimando al prossimo appuntamento in diretta vi raccomando quello delle 13 e 30 con il nostro telegiornale ora vi lascio alle previsioni del tempo all'oroscopo e vi auguro una buona giornata il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino benvenuti al meteo di TV Molise vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per la giornata di oggi giovedì 28 dicembre l'anticiclone di Natale non sembra dare segni di cedimento e pertanto le condizioni anche sulla nostra regione permarranno tutto sommate e stabili si segnala solamente una maggior copertura nuvolosa sul venafrano a causa di nubi basse stratificate che causeranno nebbie o foschie venti da quadranti sud occidentali mare calmo temperature campo basso minima 2 massima 11 isernia minima 5 massima 11 termoli minima 8 massima 12 venafro minima 7 massima 12 vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani venerdì 29 dicembre per la giornata di domani non sono previsti cambiamenti significativi rispetto a quanto visto per la giornata odierna quindi ci aspettiamo tanto sole e temperature stazionarie ma con possibili nebbie insistenti sul venafrano venti prevalenti dai quadranti occidentali mare calmo temperature campo basso minima 2 massima 9 isernia minima 6 massima 11 termoli minima 10 massima 12 venafro minima 8 massima 11 benvenuti all'oroscopo di oggi giovedì 28 dicembre ariete questi giorni di festa vi hanno ricaricato di energie positive che non vedete l'ora di riversare in amore sul lavoro prendete questo periodo per imparare a godervi un po' di tempo libero toro queste stelle parlano di belle emozioni sfruttatele per organizzare qualcosa di bello con il partner sul lavoro è arrivato il momento di fare un salto di qualità gemelli questa giornata dovreste dedicarla al relax e a voi stessi così anche il più piccolo dubbio d'amore si chiarirà sul lavoro continuate con questo entusiasmo cancro in amore tutto sta andando bene quindi non fatevi paranoie inutili al lavoro tirate fuori la determinazione e dimostrate di che pasta siete fatti leone è un momento di rivoluzione questo da tutti i punti di vista sia sentimentale che lavorativo che ancora single potrebbe incontrare una persona interessante vergine in amore è un momento di revisione e riuscirete a capire se la persona che vi piace davvero innamorata di voi sul lavoro tutto procede al meglio bilancia dal punto di vista professionale c'è bisogno di fare uno sforzo in più soprattutto nel non cadere nel vortice della negatività sul lavoro non perdete la fiducia nel prossimo scorpione è un momento fortunato per l'amore questo e anche per le questioni pratiche cercate di battere il ferro finché è caldo sagittario questa giornata è piena di emozioni anche se non tutte positive sul lavoro ci sarà modo di recuperare quindi adesso godetevi ancora un po di vacanze capricorno in amore godetevi questo momento fortunato senza stare a pensare troppo al futuro sul lavoro invece iniziate a fare dei piani concreti acquario per l'amore questa è una giornata molto interessante sfruttatela al meglio dal punto di vista lavorativo continuate a impegnarvi come fate sempre e le soddisfazioni arriveranno pesci il cielo parla d'amore quindi dedicate più tempo al partner sul lavoro avrete modo di realizzare i vostri sogni continuate così grazie a tutti grazie a tutti